I debiti fuori bilancio si confermano croce piuttosto che delizia per la maggioranza del sindaco Lucio Greco. Anche ieri sera, dopo quanto accaduto il giorno precedente, il numero legale è venuto a mancare quasi in addirittura d'arrivo. All'ordine del giorno c'erano 24 debiti ma la corsa prenatalizza della Sisee Civica si è fermata alla diciassettesima tappa. Sul diciottesimo debito infatti non c'è stato il numero necessario di consiglieri collegati da remoto viste le restrizioni anti-covid. Per tutta la riunione, anche se in seconda convocazione, i progreco hanno spesso avuto bisogno della presenza di esponenti di opposizione a garanzia del mantenimento del numero legale. La questione non è solo politica. Dovuta a qualche assenza di troppo, i debiti fuori bilancio infatti continuano a sferzare i conti dell'ente su tanti atti arrivati all'attenzione della Sisee Civica. Si sono moltiplicati i dubbi e le incertezze anche procedurali. La seduta di ieri sera si è aperta proprio con lunghe discussioni generate da debiti su transazioni. È stato necessario rintracciare letteralmente dirigenti che non stavano partecipando ai lavori. Una situazione in generale non così gradita da tanti progreco. I 24 debiti all'ordine del giorno, del resto pare non siano neanche gli ultimi in vista di fine anno. Ce ne sarebbero pronti altri, non meno di una quarantina. La commissione consigliare bilancio con il presidente per Paolo Grisanti e gli altri componenti ha più volte chiesto di fare chiarezza. Istanze che si susseguono ormai anche dai banchi per ora virtuali di altri gruppi di maggioranza. Addirittura si arriva al paradosso di dover approvare debiti che possono generarne altri. Pare che la situazione sia stata già posta al segretario generale Loredana Patti. Anche il vice sindaco Terenziano Di Stefano è intervenuto nel corso dei lavori di ieri su uno degli atti probabilmente più delicati da trattare in termini di refluenze finanziarie dell'ente. Si sono susseguiti interventi del dirigente Alberto De Petro e dell'architetto Emanuele Tuccio nel tentativo di fare chiarezza sulle coperture finanziarie dei tanti debiti che si collocheranno nella generale sciogliete le righe di fine anno. Il problema esiste e anche la Corte dei Conti regionale l'ha più volte ravvisato. Esponenti di maggioranza nel corso della seduta di ieri sera hanno posto la questione dell'individuazione di eventuali responsabilità amministrative da segnalare agli organi competenti. Il numero legale alla fine non ha retto probabilmente entro fine anno la Sise Civica sarà ancora chiamata a riunirsi sui debiti ma non solo.